è possibile rinascere la risposta è sì perché questa vettura appunto è rinata elettrica e con un design completamente rinnovato tenendo però ben a mente quello che era il design degli anni 50 che è stato il più amato dagli italiani parliamo della nuova 500 è un'auto 100 per cento elettrica quindi in grado di esprimere il massimo dell'innovazione della sostenibilità ambientale non dimenticando però la sua grande storia quindi volgendo un occhio al passato e richiamando le forme della prima versione quella che l'ha reso un'icona di stile una vettura celebre e amata dagli italiani un'auto che come potete vedere è completamente elettrica e si ricarica comodamente o con la presa di casa o con una colonnina che è sempre acquistabile insieme alla vettura una 500 che ama l'ambiente ed è sostenibile e questo lo si vede in tutto soprattutto anche negli allestimenti interni che sono completamente realizzati con del materiale riciclato dal fondo marino un'auto che rappresenta il green anche nei suoi colori tutti nuovi e tutti ispirati all'ambiente un'auto in super connessa infatti è dotata di uconnect di ultima generazione perfettamente integrato con android auto ed apple carplay e quindi capace di far connettere i propri clienti con il mondo esterno e con le tecnologie più all'avanguardia il suo assetto green tecnologico e il design non sono gli unici elementi che la rendono così accattivante un'auto completamente elettrica ma anche con un prezzo molto interessante infatti gode di tutti gli incentivi statali e incentivi di rottamazione è possibile ottenere fino a 10 mila euro di vantaggio cliente il prezzo dunque ma non solo dei consumi molto interessanti fino a 310 chilometri su strade extraurbane 460 chilometri su strade urbane e è facilissimo ricaricarla perché pensate i primi 50 chilometri si ricaricano in soli 5 minuti e 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 Ma